nuova puntata e oggi parliamo di qualcosa di davvero importante perché parliamo di quella che ormai è una bolla conclamata secondo me è una di quelle bolle di cui si parla poco e che invece dal mio punto di vista è proprio evidente e ve lo farò capire con degli esempi anzi questa volta voglio fare qualcosa di più voglio un po' farvelo capire con una storiella e quindi sarà un po' lunghetta non durerà 15 minuti forse qualche minuto di più forse anche 20-25 però secondo me vale la pena ascoltare e vi assicuro che alla fine la morale la capirete tutti quindi ve lo dico prima non è una cosa breve se avete poco tempo non ascoltate ascoltatela in un secondo momento anzi colgo l'occasione semmai ascoltate qualche puntata più breve parliamo chiaramente di Fed di BCE ma soprattutto parliamo di obbligazionario europeo perché è lì che si sta creando la bolla come abbiamo visto mercoledì scorso la Fed di fatto ha fatto una retromarcia un'inversione a U ha detto forse forse qua l'inflazione è tra noi i tassi forse è sbagliato tenerlo a zero forse l'economia sta andando un po' fuori controllo è meglio che aumentiamo i tassi e finiamo di mettere liquidità nel mercato quindi pian piano ritiriamo la liquidità molto più velocemente di come avevamo previsto e soprattutto incominciamo ad aumentare i tassi al ritmo praticamente da giugno 2022 al ritmo trimestrale perché bene o male quella è l'idea per il 2022 2023 visto che poi alla fine si è parlato di tre aumenti per il 2022 e tre aumenti per il 2023 partendo appunto da quando finirà il tapering quindi bene o male da quel periodo lì viceversa l'inversione a U non l'ha fatta la BCE che continua ad acquistare di fatto debito debiti nazionali perché quando acquisti poi alla fine obbligazionario statale acquisti debito delle varie nazioni europee in questo frangente tra l'altro in cui secondo me non è che c'è tutta questa esigenza di farlo come se ne accorta tra l'altro la BCE e quindi sarebbe il caso invece come ha fatto la Fed di aumentare i tassi e vi faccio capire il tutto con una storiella invece che di un esempio poi mi iscriverete anche sul gruppo che si chiama cambiare tutto cambiare subito previsioni sull'economia e la finanza per dirmi se vi è piaciuta la storiella così semmai ne farò altre se vi è piaciuta invece di solo esempi e vi ricordo tra l'altro per chi mi vuole sostenere visto che perdo tempo per studiare e per farvi capire bene le cose con queste puntate e beh mi devo pure un po' informare c'è patreon.com slash cambiare tutto ci sono dei servizi chi vuole pure avere delle info beh basta contattarmi comunque gli indirizzi sono sotto la descrizione della puntata per qualsiasi cosa anche l'email ma arriviamo alla storiella per farvi capire come stanno le cose come si sta creando la bolla mettiamo conto che voi siete nella vostra azienda anzi mettiamo proprio il sottoscritto a un certo punto vi arriva un collega e vi dice guardate qua la situazione la vedi ormai un anno e mezzo che c'è il covid due quasi tre cioè da un bel po' di tempo c'è sto caspito di covid ormai ho perso ho perso l'orizzonte temporale di quanto da quanto tempo c'è e io sto un po' in difficoltà economica e mi servirebbe un prestito faccio io dai ragazzo quanto ti serve dimmelo e mi servirebbe 10.000 euro e va bene guarda fammici pensare un pochettino tu sai che tua moglie lavora lì all'agenzia delle entrate può vedere anche i conti correnti di tutte le persone e vuoi vedere un po' il tuo collega come è messo finanziariamente e beh vai a vedere e vedi che praticamente questo c'è un bel po' di liquidità sul conto corrente però ogni mese prende 1.500 di stipendio però alla fine tra quello che compra tra mutuo tra rate della macchina beh spende di fatto più di quello che riesce a incamerare per te cacchio è un bel rischio dagli 10.000 euro e parli con tua moglie cosa fare cosa non fare beh tua moglie ti dice vai gli dai un bel po' di soldi gli fai capire che per te è rischioso dagli questi soldi vedi per quanti anni dopo quanti anni te li ridà e in base a questo ti fai dare un tasso di interesse adeguato bene ritorni dal giorno dopo e al tuo collega ti vede e ti dice allora meritai questi 10.000 euro guarda la situazione è così è un po' rischioso per quanti anni ti serve fa un paio di annetti poi ti ridò ti ridò i soldi e sai è rischioso quindi me li dovresti dare un po' di più visto che io te li do questi soldi mi privo io di questi soldi e per me è un rischio anche perché non so se me li ridai e quindi mi dovresti dare un bel po' di più quando mi dai di più che percentuale mi dai di più e il tuo collega ti guarda ti fa guarda io veramente ti chiedo 10.000 euro ma tra due anni te ne darò 10.970 quindi lo 0,3% in meno ah tu lo guardi come dire scusa ma in che senso cioè io ti do dei soldi rischio di meno cioè rischio di mio e in più tu me ne dai anche di meno tra due anni capisci che non ha senso e quindi non glieli dai dopo qualche giorno arriva un altro tuo collega il tuo collega arriva e ti fa lo stesso ragionamento tu dopo dici dopo 24 ore vediamo fammi vedere la posizione di quest'altro tua moglie ti dice no guarda questo ha meno soldi sul conto corrente però alla fine devo dire la verità riesce ad avere le entrate a coprire tutte le spese quindi è un po' più affidabile come al solito vedi vedi perché chiaramente più anni più interessi devi chiedere questo però è più tranquillo dopo due anni chiedegli un interesse di meno allora rida si va bene te le posso dare ma che interesse mi dai soprattutto dopo quanto tempo e lui dice guarda mi servirebbe 10.000 euro ma per 10 anni cazzo 10 anni ti fai un po' di calco dice ma che interesse mi dai guarda veramente dopo 10 anni beh io invece di 10.000 euro ti posso dare 9.960 l'altro te l'ha chiesto 9.930 forse mi ero confuso con la cifra di prima avevo detto 10.000 no 9.930 questo 9.940 ma mi dai una percentuale in meno ti dico sì cacchio ti do meno 0.40% 9.960 e tu lo guardi ma ci sta qualcosa che non fa nel senso che per 10 anni mi devo privare dei soldi e in più tu me ne dai anche di meno il primo collega si chiamava Italo e il secondo si chiamava Germano dopo qualche giorno hai vieni a sapere da altri tuoi colleghi che loro hanno ricevuto i soldi e vai a chiedere scusa ma da chi avete avuto questi soldi no guarda noi abbiamo chiesto all'azienda e l'azienda ce li ha dati ma come che senso ha quindi tu prendi e vai a parlare con il responsabile aziendale vai a parlare con il responsabile aziendale che ti dice guarda veramente sono venuto a chiedermi questi soldi ed effettivamente noi glielo abbiamo dati scusa ma che logica c'è dico io scusa questi ti danno di meno per tutti questi anni mi spieghi la logica e allora lui ti dice guarda qua questi ragazzi stavano un po' in difficoltà noi in questo momento questi poi diciamoci la verità sono stanno con noi da quando abbiamo creato l'azienda quindi in un momento di difficoltà li aiutiamo giustamente quindi non c'è un grosso problema e e tu rimani un po' a bocca aperta perché dice guarda che se fai così tutti quanti verranno a chiedere soldi perché ovviamente ovviamente e beh se mi dai se ti chiedi 10 e te ne ridò 9 e di meno di 10 e beh è un bel un bel vantaggio direi e soprattutto c'è un problema se tu mi stai dicendo che a ste persone gli dai dei soldi momentaneamente perché stanno in difficoltà prima o poi queste persone verranno a richiedertele e ma il momento di difficoltà non ci sarà più si presuppone visto che non ci sarà sempre una pandemia si presuppone e loro visto che ormai hanno avuto uno stile di vita chiamiamolo così non adeguato alle proprie possibilità e beh dovranno andare a chiedere i prestiti ad altre persone ma queste persone come il sottoscritto e beh non saranno mica disponibili a dargli 10.000 euro e a prendere 9.960 o 9.970 quindi lo 0,3% in meno lo 0,4% in meno né se ti chiami italiano né se ti chiami germano né tanto meno se ti chiami franco quindi mettono in testa che questo è un cazzo di problema perché perché poi alla fine sarà come avere tolto un po' il ciucciotto a un bambino ebbene cosa succede quando togli un ciucciotto al bambino e beh chi ha avuto un bambino sa cosa succede ed è un bel casino fatto sta che prima o poi tutti quanti dovranno diventare grandi e i nudi arrivano al pettine e c'è poco da fare il ciucciotto quando si diventa grandi non ce l'hai più avete mai visto un adulto con il ciucciotto e a me sembra invece che molti vogliono rimanere bambini e tenere il ciucciotto in bocca e questo è quello che succede un po' con i prestiti è un po' che succede con i debiti che sono una bellissima cosa i prestiti sono un po' come una sbrunza quando ti arrivano sei tutto euforico perché c'hai un bel po' di liquidità quindi ti viene la voglia di consumarli sei proprio euforico i postumi però della sbrunza arrivano il giorno dopo ecco dopo ti rendi conto della sbrunza che hai avuto ed è un bel problema questa storiella per far capire quello che sta succedendo tra la BCE e quello che succede in questo momento con le obbligazioni che si mette in pancia delle nazioni che tra l'altro hanno un interesse in negativo e chiaramente se non lo aumenti questo interesse ebbè li vizi tra virgolette senza nessun senso perché il mercato non sarà mai disponibile a comprare quel debito con quei tassi di interesse e si crea una bolla perché se tu dai della liquidità a delle persone che non hanno mai saputo spendere dei soldi o comunque che spenderanno quei soldi non certamente per risolvere le problematiche che sono alla base di quella nazione anche perché non sono riusciti a farlo in situazioni ideali economiche come era il 2019 come era il 2018 o comunque negli ultimi dieci anni prima della pandemia un po' come è successo alla Grecia ricordiamo nel 2000 tra il 2011 e 2015 2012 2013 tutti quegli anni lì dove c'è stata una forte crisi del debito della Grecia e la Grecia è andata a bussare alle porte della BCE e nella BCE poi alla fine ricordiamoci un po' come la storia dell'azienda quando il responsabile ritornando alla storiella mi ha detto guarda questo è un momento di difficoltà perciò aiutiamo quelle persone lì e beh non può più aiutarle quando non ci sarà più la situazione di difficoltà perché il responsabile comunque è una parte del consiglio di amministrazione chiamiamolo così è il rappresentante del consiglio di amministrazione ma poi il consiglio di amministrazione che decide se aiutare o no i miei colleghi di lavoro e i consigli di amministrazione in questo caso sono tutte le nazioni che fanno parte poi alla fine del Parlamento europeo che poi anche se la BCE è una cosa diversa poi alla fine è un tutt'uno perché poi ci sono i rappresentanti all'interno della BCE che comunque vengono disegnati di fatto dal governo europeo e quindi bel casino perché come successe in Grecia e beh la Germania può arrivare e dice guarda sì guarda io ti voglio dare i prestiti però tu in cambio mi devi dare in garanzia non so il partenone mi devi cominciare a dare in garanzia così come il mio collega verrà da me e io dirò guarda io te li do i soldi ma mi devi mettere in garanzia la tua auto perché se non mi riesci a pagare e beh mi ridai la tua auto ma la mia auto costa 20.000 euro io ti ho chiesto 10.000 euro e beh è il rischio che devi correre voi questi soldi o no e questo è quello che poi si crea si crea una bolla e sappiamo poi alla fine che che rischia di scoppiare tutto anche perché quando tu non riesci a risolvere da solo questi problemi e beh non è che c'è molto da dire te le devono risolvere gli altri e gli altri se hanno problemi come i tuoi non certamente sono molto disposti ad aiutarti almeno che che poi alla fine non prendano delle conseguenze peggiori delle tue o uguali alle tue se non ti aiutano fatto sta che stai cominciando a diventare un po' come un cane che si morde la coda e alla fine non vorrei che va a finire come è finita poi con la Gran Bretagna che ha detto ciao ciao saluti e ognuno ognuno fa per sé e chi fa per sé fa per tre questi discorsi qua e non penso che sia una cosa buona dico la sincera verità penso ancora che non sia così ma penso ancora che l'unione fa la forza soprattutto in un'economia come la nostra dove i piccoli paesi le piccole nazioni come può essere la Turchia che stava crescendo tanto beh e se qualcosa va storto e beh va tanto storto nel senso che veramente si rischia la paralisi economica e questa storiella è per mettervi in guardia state attenti dove dove tutti vi dicono guardate che qua l'azionario è esagerato l'economia va male non si capisce come l'azionario vale così tanto guarda forse il problema più grosso è sull'obbligazionario più che sull'azionario perché poi sull'azionario è vero che ci sono le big tech che poi alla fine capitalizzano tanto fanno muovere i listini solo in positivo e in negativo muovendosi loro ma è pure vero che queste aziende guadagnano cioè queste aziende hanno utili variati miliardi al trimestre quindi stiamo parlando di qualcosa di valore cioè quando parliamo di qualcosa di valore nel senso che sono diventati quasi indispensabili se tu ci pensi un attimo e ti fermi molto probabilmente stai ascoltando questa mia puntata da un pc dove avrai microsoft windows se non hai windows hai un sistema operativo dell'apple ios forse lo stai ascoltando con uno smartphone e beh molto probabilmente avrai ritorniamo apple oppure avrai android molto probabilmente guarda caso stiamo parlando di alphabet stiamo parlando di microsoft stiamo parlando di apple e beh queste cose sono diventate quasi indispensabili oggi è quasi impossibile fare a meno di queste cose qua se ti vuoi connettere con il mondo se ti vuoi connettere con il mondo allora non hai chance non hai praticamente chance e quindi capiamo che lì lì c'è del valore ora oggettivamente del debito dell'Italia con tutto il rispetto non se ne frega nessuno un cazzo qualcuno se ne potrebbe fregare sì ma deve essere la BCE c'è tutta l'Europa sarebbe un problema di tutta l'Europa è meglio che sia un problema di tutta l'Europa che sia un problema solo dell'Italia e degli italiani perché se così fosse beh l'unica soluzione l'unica soluzione e beh ve la ricordate la storiella di quando il primo collega è venuto da me è venuto a chiedere il prestito e io sono andato da mia moglie che lavorava all'agenzia delle entrate a vedere com'era la situazione economica e mia moglie mi ha detto no guarda questo non riesce arrivare a fine mese perché i suoi debiti superano le sue entrate le sue uscite superano le sue entrate però questo c'è un sacco di liquidità e beh non è che ci sarà molto da girare là si andrà a finire sulla liquidità quindi sui capitali sui patrimoni degli italiani per risolvere eventuali debiti penso che sia tutto molto molto chiaro sono stato pure molto veloce perché alla fine ci ho messo poco più di 20 minuti ragazzi a me non resta che ricordarvi alla fine come al solito che siete sempre sotto il fuoco nemico grazie grazie